Ok, metallurgia della saldatura, noi non faremo la saldatura, questo deve essere ben chiaro, non è parte di questo corso, ma in realtà parliamo dei problemi che la saldatura offre al nostro confatto. Intanto chiariamoci su un punto fondamentale, la saldatura è una tecnica di giunzione molto recente, considerate che i primi usi estesi possono essere fatti risalire all'ambito marino, saldature di castre su navi, e riguardano ambiti tipo corazzate, corazzate cosiddette tascabili, prevalentemente prodotti in Germania, si trattava di giunzioni effettuate con la finalità di ridurre i tempi di produzione e alleggerire il peso del senso della nave. L'uso ai fini di ridurre i tempi di produzione è stato poi fatto in maniera estremamente stesa nel caso delle navi Liberty, erano le navi impiegate dagli alleati per trasportare uomini e truppe, uomini e mezzi dagli Stati Uniti verso l'Europa, e considerate che erano prodotte circa 5.000, tra navi Liberty e navi Cisterna, e circa, se ricordo bene, un migliaio subivano rotture, ma non per i sommergibili, ma in realtà perché si ricavano da sopra, alcune addirittura furono tranciate in due, ma attenzione, non tranciate in due durante qualche tempesta particolarmente violenta, in rata, cioè da parcheggiate in qualche modo, queste di notte, con freddo, si spaccavano in due. Questo perché era stata utilizzata una tecnica di saldatura estremamente, come dire, violenta, estremamente rapida, proprio per tagliare i tempi di produzione, si riusciva ad assemblare una navi Liberty in due settimane, d'accordo? Partendo dai pezzi smontati, insomma, una specie di grande puzzle, con uso estesissimo della saldatura, però appunto i difetti che venivano indotti in queste saldature erano estremamente importanti. Si può saldare, non dico tutto o quasi tutto, ma molte cose, in realtà bisogna saldare sapendo cosa si sta facendo, tant'è che appunto esistono poi una serie di patentini che possono essere presi presso l'Istituto della Gran Saldatura, che consentono all'operatore di poter effettuare delle saldature certificate, patentini vanno rinnovati con un'operatività abbastanza spinta, perché appunto parte della tecnica di saldatura è anche affidata alla capacità del saldatore di effettuare il processo con qualità appunto nel risultato finale. Vediamo che giusto un breve riassunto delle sorgenti di energie applicate in saldatura, elettriche, arco, plasma, scintillie, effetto geolio, fascio elettronico, laser, urto, meccaniche, pressione, esplosione, attrito, ultrasuoni, oppure chimiche, fiamme e reazioni esotermiche. Vi ricordo fondamentale cos'è la saldatura parafine, la saldatura è un'aggiunzione che prevede una fusione almeno parziale del metallo base. Quella che fate a casa con il saldatorino a stagno, quella è una abrasatura perché se non fate una cavolata non fondete il materiale base, perché se fondete la vostra scheda elettronica avete fatto il buco e non avete fatto nulla. Quella è una abrasatura, in realtà quella che vi occorre è una saldatura che prevede appunto una fusione almeno parziale del metallo base, addirittura a volte potreste avere il solo metallo base che si fonde senza nessun metallo di apporto. Per quanto riguarda le vostre saldature, possiamo avere appunto qui vediamo scale diverse, una saldaturina fatta su una specie di anello oppure tube, queste sono anche le più grandi che possono essere utilizzate, le tecniche di saldatura possono essere per sfusione o per pressione e qui vedete una lista delle attività, delle procedure che possono essere adottate, è solamente una breve rista, neanche forse esaustiva. Considerate che alcuni di questi sono stati messi a punto molto recentemente, la saldatura laser a pochissimi decenni per esempio, perché appunto non si tratta solo di ottimizzare la procedura di fusione al metallo base, si tratta di controllarla e di ottenere risultati che siano particolarmente affidabili. Considerate che la tecnica di saldatura, la ricerca sulla saldatura è tuttora in svolgimento, ci sono saldature che adesso sono messe in commercio ma che si stanno implementando in questo momento, ad esempio saldare alluminio ferro, alluminio acciaio, sono saldature appunto miste che sono appunto in corso di implementazione giusto in questo momento. Grazie. 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 che sia opportunamente preparata anche dal punto di vista geometrico, c'è un finale, si dice, insomma, avete questa sede che va ad accogliere il bagno di risaldatura. C'è una certa potenza erogata, che viene denominata come W, e c'è una procedura di movimento della sorgente, in realtà è una procedura di movimento reciproca, può muoversi la sorgente, può muoversi il metallo base, dipende da cosa state facendo esattamente. La quantità di energia disponibile per unità di lunghezza è chiaramente il rapporto tra W e W, e poi c'è un parametro importante, che non è un parametro energetico, ma un parametro che chiamiamolo chimico, che è quello del rapporto di riduzione, dato dal rapporto fra il metallo base fuso e il volume totale della zona fusa. Ora, questo rapporto di riduzione è, come dire, vi caratterizza il vostro cordone a condizione che il vostro cordone, il vostro bagno fuso, non reagisca con l'ambiente esterno durante la vostra saldatura, perché non ci scordiamo che all'esterno, se vi dice bene, c'è l'aria, se vi dice bene, perché si fa anche in acqua le saldature. Quindi in realtà, se il vostro cordone non è protetto, è esposto un metallo fuso esposto alla reazione chimica con l'ambiente esterno. Qual è il problema? Il problema è almeno duplice. Il primo, il metallo fuso, tende a reagire con l'umidità, eccetera, a formare particelle non metalliche. Queste particelle non metalliche tipicamente tendono a galleggiare sul vostro cordone, ma non potrebbe non essere così e potreste averli intrappolati all'interno. E voi sapete già che una particella intrappolata all'interno è un buco all'interno della vostra struttura, è una soluzione di continuità. L'altro aspetto non trascurabile è che gli elementi chimici che fanno parte del cordone di saldatura hanno un'affinità chimica verso l'ossigeno dell'aria, per esempio, diversa tra loro. Quindi in realtà ogni elemento reagirà con una probabilità diversa rispetto agli altri. Cioè quello che rischiate non è semplicemente la formazione di particelle di ossido che potrebbero galleggiare o potrebbero rimanere intrappolate, ma rischiate anche quello che si chiama il disproporzionamento della lega. Cioè la vostra lega se non proteggete in qualche modo il vostro bagno fuso rischia di cambiare localmente di composizione chimica in maniera incontrollata. Già lo fa perché voi ci aggiungete un metallo di apporto, ma in realtà potreste appunto avere questo problema. Il rapporto di riduzione definito come volume metallo base fuso fratto volume totale zona fusa sempre appunto non consigliando il problema dell'eventuale reazione chimica fra il bagno dell'apporto cordone e l'ambiente può andare da 0 a 1. Quando è 0 e quando è 1? Se è 0 è volume metallo base fuso o pari a 0 che vuol dire un'abrasatura sostanzialmente se il rapporto è pari a 1 abbiamo a che fare con una saldatura dove non c'è metallo di apporto tra i due estremi che sono assolutamente compatibili. Prendiamo un acciaio prendiamo in realtà due lastre d'acciaio e cerchiamo di farne una saldatura testa a testa. Abbiamo detto che abbiamo raggiunta di energia e per il momento trascuriamo l'eventuale presenza di un metallo di apporto lo possiamo fare perché abbiamo detto che una possibilità di saldatura è quella in cui non ci sia metallo d'apporto vedremo poi per poco che sarà importante questo metallo d'apporto e molto spesso svolgerà un valore fondamentale. Se effettuiamo in questo disegno in alto a destra una sezione mentre passa il cordone di saldatura che vediamo qui avere questa direzione verso sinistra osserviamo che il cordone andrà in piena fusione e poi a distanze di via crescenti lungo il cordone avremo temperature che andranno via via a diminuire banalmente. Se prendiamo il nostro diagramma ferro carbonio prendiamo per esempio una lega allo 0,2% di carbonio come caratteristica delle due lastre che si stanno saldando i punti 1, 2, 3 e 4 sono sostanzialmente quelli che leggiamo a distanze crescenti dal cordone di saldatura quindi in realtà quando noi stiamo saldando non solo stiamo fondendo il nostro metallo che nel diagramma ferro carbonio se stiamo saldando un acciaio vuol dire trovarci in campo di liquido ma a partire dal cordone e allontanandosi da questo avremo un riscaldamento che avrà una sua storia termica con un valore massimo che raggiungerà picchi di aria più bassi man mano che mi allontano dal cordone chiaramente a destra e chiaramente a sinistra del mio cordone in questo caso in questa tipologia con una simmetria abbastanza evidente ma non è detto che sia per forza simmetrica dipende da cosa sto saldando non abbiamo solamente saldature testa a testa per muoverle a t abbiamo configurazioni geometriche più strane ebbene se dopo la saldatura io effettuo e dopo il raffreddamento chiaramente il mio pezzo effetto un'analisi della durezza a partire dal mio cordone andando verso sinistra è abbastanza frequente osservare l'andamento che osserviamo lì in figura in basso a destra e cioè un valore che ha un picco massimo abbastanza evidente per poi scendere verso il basso a valore addirittura più basso rispetto a quello del metallo base e poi ricrescere per quale motivo ci ritroviamo con questi valori in questo strano andamento della durezza in realtà come vi ho detto dipenderà molto dalla dalla storia esattamente che avviene punto per punto ma diciamo che questo valore massimo questo valore minimo dell'andamento della durezza sul profilo sulla sezione del nostro cordone di saldatura è dovuto almeno alcuni motivi andiamo su quello più semplice ovvero questo valore minimo di durezza corrisponde a quella zona in la quale il nostro acciaio è rimasto intorno ai 600-700 gradi probabilmente ci è rimasto anche abbastanza a lungo e l'unico meccanismo che può attivarsi in questo caso è l'ingrossamento del grano grano cristallina che si ingrossa non può che apportarci un valore più basso di durezza questo abbassamento di durezza però non è particolarmente pericoloso è molto più pericoloso e a volte causa di rotture quel massimo che vi devi a sinistra il massimo può essere dovuto a vari fenomeni almeno due sostanzialmente se ci sono elementi carburigeni possono precipitare carburi per esempio ma cosa che avviene quasi sempre invece è banalmente dopo l'austenizzazione abbiamo un raffreddamento che potrebbe essere molto rapido e abbiamo una zona di martensite che viene a formarsi in questo intervallo ora questo valore di durezza che cresce così alto e di conseguenza il valore dell'allungamento racconto alla rottura della duttività della resilienza che crolla a porre molto basso lungo una zona al bordo della zona fusa in realtà può essere causa delle cosiddette rotture all'acqua di coltello dove si vede la rottura sulla saldatura che non procede dentro il cordone ma procede appunto a fianco al cordone nella zona termicamente alterata in corrispondenza di quella zona nella quale malauratamente si è avuta la formazione di martensite durante il processo di raffreddamento d'accordo? quindi in realtà questa surezza che cresce qui corrisponde un appassamento importante probabilmente molto importante di duttività e di resilienza può portare facilmente a rotture il nostro pezzo quindi tornando al nostro cordone la nostra figura in qui in mezzo vediamo almeno tre zone importanti la zona dove si è fuso il nostro pezzo si è fuso perché è importante perché dopo che si è fuso si deve risolidificare e noi sappiamo che la solidificazione è un processo particolarmente oneroso dal punto di vista poi della resistenza meccanica del manopatto stesso due zone laterali che hanno superato almeno una delle temperature critiche parleremo in questo caso appunto di zona termicamente alterata o anche detta 0TA e poi più in basso più lontano abbiamo una zona che non ha superato la temperatura ad una delle temperature di trasformazione ma non è detto non abbia subito alcuna modifica del comportamento meccanico abbiamo appunto visto questa piccola diminuzione di durezza dovuta all'eventuale ingrossamento del grano qui vediamo la stessa cosa che abbiamo appena detto ma è un po' più complessa perché bene guardiamo la figuratina a sinistra la parte in alto fa riferimento alla microstruttura che abbiamo alla massima temperatura laddove appunto osserviamo a parte il liquido la zona che viene austenitizzata la zona di transizione la zona ferritoperitica dopo il raffreddamento a seconda abbiamo a che fare con un acciaio ad alta temperabilità o a bassa temperabilità avremo microstrutture differenti e quella molto pericolosa è la zona che possa portarvi alla formazione è quella che è più in basso dove possiamo avere nel caso di acciaio ad alta temperabilità una martensite più o meno estesa addirittura all'interno del cordone di saltatura laddove questa cosa è possibile questo perché vi ricordo che punto per punto dovremo considerare il diagramma in alto a destra che è il diagramma ferro carbonio ma comunque la composizione chimica è il nostro acciaio e le varie fasi presenti insieme con il diagramma CCT perché non ci scordiamo che una volta riscaldato dovremmo anche riaffreddato questo acciaio nel caso delle zone che hanno superato la temperatura di ossidizzazione quindi sopra il punto 3 potremo parlare potremo considerare il diagramma CCT con le varie curve di raffreddamento non ci scordiamo che le curve di raffreddamento non saranno quelle che vediamo in questo diagramma perché qua parliamo di diagramma CCT dove il nostro pezzo è ossidizzato alla stessa temperatura qua invece avremo temperatura di ossidizzazione differente cioè il punto di partenza sarà via via crescente e le curve saranno differenti quindi la cosa è abbastanza complessa il risultato però dal punto di vista poi microstrutturale è quello che abbiamo visto appunto a sinistra cioè una microstruttura che cambia dal cordone di saldatura verso la zona del metallo base con morfologie differenti appunto a seconda del metallo base sia esso appunto più o meno temprabile qui vediamo in basso a sinistra qual è l'andamento della temperatura a seconda del punto che vado a considerare nel mio sistema perché quando il nostro elettrodo sta passando in realtà non è che improvvisamente andiamo a picco verso l'alto abbiamo un andamento che sarà quello che vediamo qui i punti 1 e 2 che sono quelli più vicini al cordone andranno molti in alto molto rapidamente per poi scendere più lentamente il punto 3 un po' più lontano per un picco spostato verso tempi più alti il picco 4 e così quindi in realtà i massimi raggiunti dal nostro metallo diventeranno ci sposteranno nel tempo per tempi più lunghi man mano che mi sposto più lontano dal nostro lembo lembo della saldatura a questo punto possiamo distinguere tante zone qui ci sta una classificazione leggera se volete ma insomma il riassuntore molto semplice è metallo base fuso metallo fuso del cordone saldatura zona delmicamente alterata e vi ripeto una zona che abbia subito la trasformazione di almeno una delle curve di trasformazione di trasformazione allotropiche e poi appunto la zona del metallo base dove al massimo possiamo avere a che fare con un leggero ingrossamento del grano laddove questo possa avvenire dopo la saldatura dopo l'ha ottenuto il nostro cordone di fuso in realtà si deve risolidificare la solidificazione in realtà dipenderà da tanti fattori dal nostro acciaio dalla composizione del nostro acciaio dall'ambiente in cui si trova la nostra saldatura dipenderà anche dalla grana cristallina del metallo base qui in questo schema vedete in alto a destra due acciai con la stessa composizione chimica ma grana differente siccome è abbastanza intuitivo io passo con in maniera ortogonale al piano passo con la misorgente di calore riscaldo fondo quando è passato comincia a solidificarsi qual è il principale meccanismo di raffreddamento qua? ma è molto semplice è la conduzione termica attraverso le nostre piastre quella è la principale modalità di asportazione del calore e voi sapete già che ogni qualvolta io ho una particolare direzionalità nell'asportazione del calore tendo a formare dendriti ed è quello che purtroppo tende a formarsi che è una cosa particolarmente spiacevole queste dendriti vedranno in ogni singolo grano una potenziale nucleo di solidificazione quindi in realtà quanto è più e fine la grana tanto più i fini saranno le strutture identifiche faranno a formarsi quindi più fine sarà la grana del mio cordonizzatura cosa che io voglio molto fine perché il cordonizzatura è sempre un punto molto debo della mia struttura più è fine la struttura solidificata e meglio è vediamo che in corrispondenza della zona fusa ZF o della ZTA zona termicamente attrata possiamo avere tante tipologie di difettosità 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 addirittura visibile occhio nudo e visibili affioranti e difettosità invece un po' più nascoste diciamo una cosa abbastanza importante e lo vediamo in questo punto qui una saldatura bella a vedersi è probabilmente che funzioni anche bene è un'estetica della saldatura quindi una maglia della saldatura molto regolare vorrà dire che quella saldatura probabilmente è stata fatta abbastanza bene o meglio possiamo dire il contrario una maglia della saldatura irregolare cioè una saldatura brutta a vedersi con il debito ozzo eccetera quella saldatura sicuramente non andrà bene ecco questo potrebbe essere detto con una certa sicurezza abbiamo varie tipologie di difettosità slivellamento nell'accostamento di due lembi sono messi in posizioni differenti la presenza di porosità un eccesso di vetrazione fino a sfondare la ciaffinatura la presenza di intusioni in sellature vediamo che quindi queste difettosità possono essere presenti e portano tutte quante a un forte abbassamento della resistenza meccanica della nostra saldatura qui a questo punto dobbiamo considerare appunto la zona fusa come una zona particolarmente pericolosa del nostro onufatto nella zona fusa abbiamo sicuramente come problemi la protezione dell'ambiente del bagno metallico saldatura sotto vuoto sotto argon sotto scoria in modo tale che si riduca il più possibile la reazione chimica fra il mio bagno fuso e l'ambiente esterno vi ripeto per almeno due motivi il primo evitare una formazione di inclusione che possono rimanere poi intrappolate nel nostro grado di saldatura il secondo un disproporzionamento della lega cioè una composizione chimica della lega troppo diversa rispetto a quella del nostro metallo base il secondo problema principale è sicuramente le condizioni di raffreddamento se sbagliamo rischiamo di ottenere una zona limitrofa una zona martensitica ma addirittura nel corso di saldatura una zona martensitica questo con conseguente infragilimento inoltre poi nella zona di solidificazione abbiamo il rischio abbastanza concreto di formazione di strutture detritiche vi ripeto l'asportazione del colore è molto direzionale la formazione di cavità di ritiro tutti quanti gli elementi che abbiamo a che fare a parte il dismuto hanno un volume specifico maggiore al liquido che allo stato solido quindi solidificando tenderà a ritirarsi oppure quindi con rischio di volosità per esempio oppure ancora l'inglopamento di particelle non metalliche sia in essi di ossidi che si sono formati per reazioni del bagno fuso con l'ambiente esterno sono in essi scorie i consigli della casa che sono appunto utilizzati per decidere per poter migliorare le prestazioni del cordone di saldatura sono quelle che vediamo qui una composizione chimica non particolarmente dissimile del metallo di apporto rispetto al metallo base ma con alcuni aspetti abbastanza importanti intanto il carbonio del metallo di apporto deve essere più basso del metallo base per esempio 0,1 rispetto a 0,2 sempre presente il molibdeno il molibdeno vi ricordo che va sempre piuttosto bene un po' come il nickel che vediamo subito sotto quindi in realtà nel metallo di apporto se ce lo mettiamo ce lo ritroviamo nel cordone di saldatura che è abbastanza buono e poi valori di silicio zolfo fosforo e banadio ridotti al minimo silicio zolfo e fosforo lo capiamo al volo il banadio lo capiremo poco se non ci ricordassimo che il banadio è un elemento che ha una forte reattività chimica verso l'ossigeno e quindi chiaramente se ci sta presente ci formano le particelle non metalliche il che non va bene silicio più o meno lo stesso motivo zolfo forma sorfuri fosforo risinfragilisce quindi sono i meccanismi principali per i quali questi 4 elementi chimici non devono essere presenti per quanto riguarda le zone limitrofe abbiamo come principale problema il problema relativo alla formazione di Markin-Siter quindi in realtà il nostro metallo base il nostro metallo da saldare per questo che appunto vi ripeto si può saldare quasi qualsiasi cosa ma dovrà rispettare alcune indicazioni e nel caso non li rispetti si dovrà operare con dei processi di pre-riscaldamento o post-riscaldamento in modo da attenuare il processo di raffreddamento e di evitare formazioni martensite quindi in realtà si calcola partendo sul metallo base quello che viene chiamato carbone equivalente con formulette simili a queste in realtà non ce ne sta una sola ma soprattutto abbastanza simili e praticamente se il carbone equivalente è inferiore al 0,4% si può saldare senza grandi problemi se fra 0,4 e 0,6 si prevede un pre-riscaldo se oltre al 0,6 si prevede anche un post-riscaldo tutto questo finalizzato a ottenere un abbassamento della velocità di raffreddamento e evitare quindi la formazione di martensite qua vediamo un'altra cosa che per esempio potrebbe essere relativo ai nostri acciai in ossidabile da ostentitici che abbiamo messo la volta scorsa quando parliamo di sensibilizzazione vi piace andare al fatto che questa potesse essere relativa al processo di saldatura ma ora capiamo perché se io ho due lastri acciai in ossidabile a ostentitico che sto saldando in qualche zona permanano intorno ai 600 gradi quella zona vedrà vedete queste panelline che stanno qui sui bordi grano la precipitazione di carburi di cromo e posso avere dimitrofo al mio manufatto al mio cordone di saldatura posso avere una zona che in realtà non avrà resistenza alla corrosione e che quindi vedrà un attacco corrosivo intergranulare particolarmente oneroso qualche micrografia quindi vediamo che le microstrutture che possiamo ottenere sul nostro cordone possono variare molto da seconda delle condizioni di saldatura qui ci sono alcune difettosità abbastanza importanti anche qui vediamo le micrografie a ingrandimento un po' più grande e poi un po' di radiografie non dovete saperle leggere queste assolutamente alcune sono anche abbastanza evidenti insomma vediamo qui varie porosità per esempio un po' come le radiografie che si fanno su un osso rotto sostanzialmente tutti i pallini neri sono zone in cui manca il materiale sostanzialmente meno ce ne stanno e meglio è ce ne sta un'altra dopo abbastanza interessante per esempio questa dove abbiamo appunto queste clicche interne sono abbastanza evidenti a livello di radiografia radiografare è costoso va fatto laddove il nostro malfatto necessiti di un controllo importante saldature su corpi pompa in ambito sicuramente nucleare in ambito chimico insomma non lo fate per oggetti sicuramente di basso pregio qui vedete appunto quali sono le varie tipologie di radiografie che possono appunto essere ottenute a palle di una saldatura di questo tipo